10.000 in tribuna all'ippodromo di Agnano con 200.000 euro scommessi sul campo per l'edizione 2024 del Gran Premio Lotteria Trofeo ed il Sivisa. Vinto a sorpresa dal cavallo Capital Mail, portacolori del romano Saverio Cortese ed allenato da Gennaro Casello, grazie alla guida esperta del driver Antonio Di Nardo in 1.16, nato a San Giorgio a Cremano, che entra da oggi nell'albo d'oro della storica corsa di Agnano. Il cavallo mi era piaciuto in batteria, quindi ero fiducioso per la finale, poi sai, ogni corso ha la storia a sé, però c'avevo fiducia di fare una buona prestazione. Nulla di fatto per il favorito Vernissage Griff, che sbaglia e rompe in corsa. Altri momenti istituzionali sul palco del Gran Premio con il Ministero dell'Agricoltura, rappresentato dal sottosegretario all'Ippica Patrizio Lapietra e dal direttore generale Remo Chiodi, il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore comunale allo sport Emanuela Ferrante. Lo stato maggiore dell'aeronautica militare è la fanfara dei carabinieri a cavallo, ricevuta dagli amministratori di Agnano, Pierluigi, Luca e Marco D'Angelo. È stata un'edizione abbastanza memorabile, c'era un favorito scontato che purtroppo, come accade nelle corse ai cavalli, non sempre vince. Questo è poi il fascino di questo mondo. Raccolta fondi nella club house dell'ippodromo con mille invitati e l'isignore in cappellino per il dress code Hats Please, in favore della ricerca scientifica sbarro con Antonio Giordano, Giancarlo Arra, Giovanni Siniscalchi e la madrina Claudia Ruffo. Cavalli ma anche gli altri sport che fanno brillare Napoli nel mondo con i campioni d'Italia del basket, con il presidente della generazione vincente Napoli Basket Federico Grassi, i giovani tennisti con il presidente del tennis club Napoli Riccardo Villari e le auto d'epoca del casco azzurro Motor Club e Napoli Racing Show, con Enzo Rivellini che hanno sfilato accompagnando al palco i guidatori dei cavalli del Gran Premio. Emozioni per i tanti momenti di spettacolo e sport, come il saluto di congedo dalle piste del campione di trotto Zaccon Gio, il premio alla carriera da Antonio Luongo per Feistongal e riconoscimenti alle migliori scuderie italiane del trotto e alla cultura per le mostre d'arte e galleria d'Italia intesa San Paolo.